Buonasera, sono Filippo Andrea Rossi, vicepresidente del Municipio 3, nonché assessore allo sport e politiche sociali giovanili e per la non violenza. Siamo qui fuori al Municipio 3 per la consegna di un bellissimo premio. Quest'anno per il Municipio è stato un anno straordinario con tantissime iniziative che vanno dallo sport, dalla cultura, la cura del territorio con la salvaguardia anche dei murali di Largomurani, la cultura diffusa nei quartieri, penso a Casoretta Sonida e a tantissime iniziative come il Parco Lambro che abbiamo vissuto con il favoloso Festival Lambro. Un anno davvero straordinario che si conclude adesso con la consegna di un premio.